come ti senti? come una colonna? dai non fare così, un poco di vita? e sì, non fare così, cosa? che sono 500 anni che stiamo qua ad osservare questi beotti di esseri umani? e una chiesa, non offendere? ma chiesa de che? che appena vanno fuori di qua si ammazzano? e quando celebrano i funerali? piangono come se la persona morta fosse veramente quel corpo? b sì, ma sono umani, la stoltezza è parte di loro? lo so, lo so, ma non cambiano mai, 50 anni fa venivano vestiti in modo diverso, ma sotto sotto rimangono povere pecore? dai, cosa pretendi da loro? pensano di essere i padroni del mondo giudicando con i loro 5 sensi limitati, se solo sapessero che esistano una infinità di mondi appena oltre i loro? che rimangano nel loro brodo e continuino a celebrare la loro stupidità, tanto noi in una forma o l'altra continueremo in eterno, loro pure, ma commetteranno gli stessi errori?